Ciao e benvenuto nel mio canale YouTube sugli animali. In questo video parleremo di incontri ravvicinati, storie di persone e serpenti in natura. Gli incontri tra esseri umani e serpenti nella natura sono eventi che suscitano una vasta gamma di emozioni, dalla meraviglia alla paura. Le serpi, esseri affascinanti e spesso enigmatici, occupano un ruolo significativo negli ecosistemi di tutto il mondo. Questi incontri ravvicinati offrono l'opportunità di esplorare il rapporto complesso tra l'umanità e il regno animale, evidenziando la nostra reazione innata di meraviglia e cautela di fronte a queste creature. Le storie di persone che si sono imbattute in serpenti nella natura sono ricche di insegnamenti sulla convivenza pacifica con la fauna selvatica e sulla necessità di conservare gli habitat naturali in cui queste creature straordinarie prosperano. In questo contesto esploreremo quattro storie vere di incontri tra individui e serpenti, ciascuno offrendo una prospettiva unica su come l'umanità e il mondo naturale si intrecino in maniera sorprendente e significativa. Numero 1. Il serpente nell'orto. Il serpente nell'orto rappresenta un affascinante episodio di incontro tra l'umanità e la fauna selvatica. Mentre una donna dirigente lavorava nel suo giardino, la sua giornata prendeva una svolta inaspettata quando si è ritrovata faccia a faccia con un serpente a sonagli dalla coda di diamante. Nonostante il naturale istinto di paura, ha reagito in modo calmo e razionale. Piuttosto che fuggire o cercare di affrontare il serpente da sola, ha fatto la scelta saggia di chiamare un esperto locale in fauna selvatica. L'esperto ha prontamente risposto alla chiamata e con competenza e attenzione ha rimosso il serpente in modo sicuro dal giardino. Ciò che rende questa storia ancora più intrigante è il fatto che il serpente era una specie rara, il temuto serpente a sonagli a coda di diamante. La sua presenza nella zona era un segno di una popolazione potenzialmente sconosciuta e un prezioso contributo alla biodiversità locale. Questo incontro ravvicinato ha avuto un impatto duraturo. L'evento ha attirato l'attenzione delle autorità locali e degli studiosi della fauna selvatica, che hanno avviato un'indagine approfondita sulla presenza del serpente nella regione. Questo sforzo di ricerca ha portato a una maggiore comprensione della distribuzione geografica e dello stato di conservazione di questa specie, aprendo la strada a misure di conservazione più mirate. La storia del serpente nell'orto dimostra come la consapevolezza e il rispetto per la fauna selvatica possano contribuire in modo significativo alla sua preservazione. Rappresenta anche un esempio di come gli incontri apparentemente spaventosi con creature selvatiche possano trasformarsi in opportunità per la conoscenza e la protezione dell'ambiente naturale che condividiamo. Numero 2. Il serpente marino curioso. L'incontro tra il subacqueo e il serpente marino in Australia è una delle storie più suggestive di come l'umanità possa sperimentare la maestosità del mondo marino e interagire con le creature che lo popolano. Mentre il subacqueo esplorava una vibrante barriera corallina, il suo cuore ha sobbalzato quando si trovato improvvisamente a faccia a faccia con un serpente marino. Inizialmente l'emozione predominante era la paura, data la reputazione spesso incompresa di questi serpenti marini. Tuttavia, mentre il serpente marino si avvicinava con curiosità, il subacqueo ha notato che non sembrava interessato a lui come preda, ma piuttosto sembrava essere affascinato dalla presenza umana. Questa esperienza ha dato al subacqueo l'opportunità unica di osservare da vicino il comportamento di questa creatura in un contesto naturale. Hanno condiviso il mare per alcuni minuti, il subacqueo meravigliato dalla grazia del serpente marino mentre nuotavano insieme tra le colorate formazioni coralline. Questo incontro ha rappresentato una connessione speciale tra l'essere umano e la fauna marina. Ha anche suscitato un profondo senso di rispetto e consapevolezza dell'importanza di preservare gli ecosistemi marini e le specie che li abitano. Dopo qualche tempo, il serpente marino ha proseguito la sua esplorazione oceanica, mentre il subacqueo è emerso dall'acqua con una storia straordinaria da condividere, dimostrando come il nostro incontro con la natura selvaggia possa essere un'esperienza trasformante di connessione e apprendimento reciproco. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Numero 3. Il serpente nella foresta pluviale. L'incontro del ricercatore con un pitone verde durante una spedizione scientifica in Amazzonia è stato un evento straordinario. Questi serpenti, non velenosi ma affascinanti, sono noti per la loro rara presenza e la sfuggente natura nella fitta giungla amazzonica. Quando il ricercatore si è trovato faccia a faccia con questo esemplare, ha afferrato l'opportunità con entusiasmo e cautela. Il serpente, apparentemente non disturbato dalla presenza umana, ha permesso al ricercatore di studiarlo da vicino. Questa opportunità unica ha permesso al team scientifico di raccogliere dati preziosi sulla biologia e il comportamento di questa specie elusiva. Osservando il pitone verde nel suo habitat naturale, il ricercatore ha potuto fare osservazioni dettagliate sulla sua dieta, sulle abitudini di caccia e sull'interazione con l'ambiente circostante. Questo incontro non solo ha arricchito la conoscenza scientifica sul pitone verde, ma ha anche sottolineato l'importanza di preservare le remote foreste pluviali dell'Amazzonia, habitat critico per molte specie uniche al mondo. È un esempio di come gli incontri fortuiti con la fauna selvatica possano portare a scoperte cruciali per la conservazione e rafforzare l'importanza della tutela delle preziose aree naturali del nostro pianeta. Numero 4. Il serpente nel giardino zen. L'esperienza dell'uomo nel suo giardino zen è un esempio toccante di come la meditazione e la contemplazione possano portare a una connessione profonda con la natura. Mentre sedeva in meditazione ha notato un piccolo serpente che si muoveva tra le rocce del suo giardino zen. Invece di fuggire o reagire con paura, ha scelto di rimanere calmo e pacifico, continuando la sua meditazione in presenza del serpente. Con il passare del tempo, il serpente ha cominciato a mostrare segni di rilassamento e persino di curiosità. Si è avvicinato all'uomo senza alcuna aggressività, creando un momento di vera armonia tra le due creature. Questo incontro ha profondamente colpito l'uomo, portandolo a riflettere sulla coesistenza pacifica con la natura e sulla bellezza della vita selvatica che condivideva il suo spazio. Questa storia ci insegna che la presenza di creature selvatiche può arricchire le nostre vite e che la comprensione, il rispetto e la pazienza possono condurre ad esperienze straordinarie di connessione con il mondo naturale. Rappresenta un potente richiamo a coesistere in armonia con la fauna selvatica e a riconoscere il valore di mantenere spazi in cui la natura possa prosperare insieme all'umanità. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.